Salve a tutti ragazzi, sono Valtomus, grazie a tutti e benvenuti nel secondo episodio di Meme Review Oggi come segnato alla vittoria del sondaggio andremo a vedere, commentare e recensire insieme il meme di Me and the Boys Che è un po' vecchio però comunque ho vinto il sondaggio Quindi direi subito di buttarci a vedere questi meme Vi ricordo che nello scorso episodio, visto che il meme era incinato su PewDiePie Ho deciso di non fare una valutazione finale su quel meme Ma su questo invece di Me and the Boys al fine dell'episodio faremo anche una valutazione da 1 a 10 Quindi direi subito di iniziare Ecco ci siamo, questo è il primo meme di giornata Io e i ragazzi di Demispiaggia, circa il 1944, merda, lo sbarco in Normandia Che cazzo di meme di merda, andiamo avanti Io e i ragazzi dopo aver sconfitto Thanos, manca qualcuno, chissà chi Io e i ragazzi in piedi davanti all'orologio alle 4.19 del pomeriggio Che cazzo, non so se l'avete capito, comunque l'ora 4.20 del pomeriggio Quindi le 16.20 che è l'orario che stanno aspettando loro adesso E nei Stati Uniti comunque nei paesi anglofoni è considerata l'ora della cannabis Quindi l'ora 4.20 per fumare la cannabis Io e i ragazzi che creiamo meme in paint Io e i ragazzi impostando sfondi per i nostri cellulari Questi sono gli obiettivi di una squadra, madonna Io e i ragazzi quando vediamo l'homo erectus nel libro di storia Bambini degli elementari, cazzo Quando i ragazzi vengono a casa mia per vedere se vuoi uscire fuori a giocare Tra l'altro questa base di meme si può adattare praticamente ovunque È una roba davvero geniale Questo è triste, cazzo I ragazzi quando realizzano che Rino è stato photoshopato E non ne fa ai ragazzi originali Io e i ragazzi nella classe primaria conoscendo il significato della parola con la F Che dovrebbe essere fascio, tra l'altro Cazzo, un altro meme triste Qui c'è Rino vecchissimo Ah io e i ragazzi Che bei tempi Sono morti però purtroppo Cioè quantomeno l'immagine fa capire questo Quando vi ho detto che la base si poteva adattare praticamente ovunque Intendevo proprio questa Che cazzo questa qui è geniale Quando l'insegnante assegna dei gruppi per un progetto E tu non finisci con i ragazzi E quindi ci sono tutti i personaggi a casa Poi c'è Goblin lì Tutto scocciato, madonna Poi tra l'altro noi ragazzi hanno fatto anche pubblicità Quindi stanno facendo i soldi Io e i ragazzi mettendoci in posa Per una pubblicità di dentifrici qui colgate OptiQA e tutti i denti brillanti Guardate, ma che cazzo Io e i ragazzi guardando YouTube nel Wi-Fi della scuola Tutto cazzo 144p anche meno Madonna Io e i ragazzi cercano tutti i meme di io e i ragazzi Che vengono fuori dal nulla Io e i ragazzi sfogliando il libro fino alla pagina 69 Ma che cazzo i ragazzi Io usando una grammatica corretta Tutti con gli occhiali Che tra l'altro sembrano occhiali di un'altra persona E non proprio di un intellettuale Però va bene Io e i ragazzi quando entriamo nella zona di Cello Ad accesso limitato Cazzo geniale Tutti buggati No, un altro meme triste gatto Tempo di andare Sono stato un buon meme Sì Ora facciamo una foto di gruppo Io e i ragazzi facendo una foto di gruppo con la morte stessa Io e i ragazzi piantando albi per proteggere il mondo del cambiamento climatico Io e i ragazzi l'uno di notte sotto le coperte giocando a Nintendo DS Cazzo, tutta luce qui, fatto benissimo Saranno giocando a Picto C'è quella merda lì che bisogna solo disegnare Collegandosi tramite ero Non mi ricordo se connessione fosse bluetooth o qualcosa del genere Tutti, sicuramente questo meme morirà presto Io e i ragazzi Non penso qui, dubito Va a scassare questi qua Io e i ragazzi giocando a Pokémon GO Anche se non è più il 2016, cazzo Sì, in effetti Pokémon GO è morto abbastanza velocemente Pubblicità di porno Sei da guerra guardando un tuo porno da solo? Io e i ragazzi No, cazzo, che schifo Io e i ragazzi vedendo che questo meme è stato pubblicato su Instagram Che cancro è la pagina meme di Instagram, madonna Io che dico ai ragazzi che il dottore pensa che io sia schizofrenico No, no, sei assolutamente normale, sei tranquillo Io e i ragazzi pretendendo che il succo di mela sia birra I ragazzi dopo che Thanos ha schiccato le dita I ragazzi dopo che Hulk ha schiccato le dita Sono tornati tutti in vita finalmente Io e i ragazzi in inverno ispirando a trovare sulle nostre bocche Per pretendere che stiamo fumando Ma che cazzo Quando i ragazzi stanno diventando famosi non tengono conto di chi ha scattato la foto Merda Oh no, io e i ragazzi è il funerale del nostro ragazzo Io e i ragazzi affrontando Spider-Man di nuovo E tra l'altro non sono solo quattro Oppure CJ, quindi in cinque spaccheranno tutto Io e i ragazzi, i ragazzi ed io Penso che sia per il fatto che l'inglese sia più corretta la seconda sintassi Quindi in italiano non si capisce tanto Io e i ragazzi prendendo i bastoncini degli leccalecca siano sigarette Ma questo è bello, cazzo Io e i ragazzi quando scegliamo tutto il stesso personaggio in Super Smash Bros Brawl Cambia solo il vestito quando scegli lo stesso personaggio in colore Merda, quando uno dei ragazzi si fidanza Merda Ora non ci calcola più Io e i ragazzi aspettando che i panzerotti siano pronti Si può stare con qualsiasi cosa E' proprio un meme geniale, cazzo Io e i ragazzi si sistemando le cibo per le diane nella biblioteca scolastica Io e i ragazzi quando veniamo a diventare dormire a una ragazza Deve aver finto di essere omosessuali per dieci anni Io e i ragazzi cambiandoci di nome quando veniamo un insegnante sostituto Ma che cazzo Io e i ragazzi sulla nostra strada per giove per diventare più stupidi Che però qui è un gioco di parole che si capisce solo l'inglese Jupiter, stupiter Maledetti inglesi che fanno i meme solo per loro Io e i ragazzi incontrarci prima volta in dieci anni Cazzo, qui sono tutte le versioni rivisitate Poi più avanti Sono un sacco diversi dal cartone, dal fumetto anzi Che è fatto, non mi credo, tipo negli anni sessanta o qualcosa del genere Comunque molto vecchio Le hanno cambiate un sacco Io e i ragazzi che non ci incontriamo ancora dopo esserci divisi da bambini Oh che cazzo Io che realizzo una settimana dopo quanto sia difficile per me fare questo tipo di meme Perché non ho ricordi divertenti dalla scuola quando ero ragazzo Merda Questo è molto triste Però alla fine il meme ce l'ha fatto lo stesso a farlo Quindi è geniale Bene ragazzi per questo video abbiamo visto tutti i meme che c'erano da vedere Ne abbiamo visti circa 40 o qualcosa del genere Devo dire che sono stati molto belli Alcuni geniali, alcuni forse un po' meno Altri non erano facilmente conversibili Per il fatto che erano stati Sono stati creati per essere letti in inglese E quindi in italiano non possono essere presi anche se sono tradotti Però tutto sommato un meme versatile Che si può dotare in un sacco di situazioni diverse Questo è sicuramente uno dei migliori meme che forse Vedremo il 2019 Sicuramente che abbiamo visto il 2019 Quindi io darei Da 1 a 10 Non voglio tenermi alto Voglio sempre tenermi più corretto possibile Perché sono consapevole che ci potrà essere qualcosa di migliore E lo valuterei un 8.8 su 10 Mi sembra una valutazione corretta Dai Determi di commenti cosa ne è stata Lasciate un piaccio se questo video vi è piaciuto Se la serie vi sta piacendo Iscrivetevi al canale se siete iscritti La descrizione è molto importante Ci sta aiutando un sacco ultimamente Ci vediamo presto nel prossimo episodio E ciao Grazie a tutti